Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video Come avrete letto dal titolo oggi andrò a provare insieme a voi una delle nuovissime collezioni appena uscite Di Mulac Di Mulac Contento di dirvi che il video è in collaborazione con il brand Allora io sono già sicuro perché ho visto un po' di DM Che la collezione vi sfizia e c'è dell'hype Se ancora non l'avete fatto e vi va seguitemi su Instagram perché tramite DM è il modo più diretto per sbattermi in faccia la realtà E farmi sapere quando volete il video di una collezione o no E sono qui per servirvi questo piatto scottante La collezione si compone di tre prodotti Il primo prodotto che è sicuramente piatto di come ci ficco è la Anarchy Glam Eyeshadow Palette Questo è il pack secondario della palette come vedete ha un cartoncino di protezione con il logo Anarchy Glam Riflettente, catarifrangente E la size mi sembra quella delle solite palette di Mulac Questo invece è il packaging primario Devo dire molto molto carina Già l'estetica esterna fa presa a giro e bene sulla gamma colori Sapete che io amo? Tanto Anche troppo I colori nude, caldi, marroni, bruciati un po' così E eccoci qui Questo qui è l'interno delle shadow palette con tutta la sua gamma cromatica Abbiamo delle opzioni neutre di nude Qualche caldino ma anche dei freddi Vi garantisce quindi delle opzioni di colori versatili Non lo so magari io ho la mia fase calda e ho tutta questa zona qui da poter utilizzare La mia fase neutro fredda e ho tutta questa zona qui da poter utilizzare Poi giustamente sono scelte che sono strettamente legate al gusto personale E vedo, vedo delle texture scintillose L'In My Born Day Suit rimane la mia eyeshadow palette preferita di Mulac Proprio perché ha questo sito tutta sparkling eccetera E raga basta che mi date del lucchicchio e del nude Sono vostro Ma una cosa che non mi aspettavo e ho detto Wow oddio È questo prodotto qua Che si chiama Fix the Chaos Questo è il packaging secondario Ed è un eyeshadow primer raga Ed è una cosa molto interessante Perché di solito boh almeno io non penso come produttore da lanciare un eyeshadow primer Invece eccolo qua Dall'esterno l'avevo quasi confuso per un gloss Dalle varie storie in giro insomma Ed è fatto così con il packaging classico Il tappo in soft touch nero E direi di partire proprio utilizzando questo Come al solito andrò a fare prima un occhio Poi babababa Alla fine vi dico tutto subito Così almeno scoperchiamo il tutto Questo pack stralungo Mi serve un ferramenta per aprire i pack Non questi ma in generale Io sono un po' malibucato Cioè non mali Sono anche malibucato Devo dire Poi le mani di burro insomma Beh sicuramente non capita niente a questo prodotto Perché è vera Oh raga Io adoro questa cosa punteruola Super sottile da scassinatore Sono due kajal Abbiamo la tonalità nera Mi sento bella Trixelle Strange Se posso dire Non vi lancerò nessun tipo di maledizione Perché Sirius Black Io non ti ho dimenticato Però ecco Questo vibe Mi piace molto E abbiamo anche l'altra situa Che è marrone Infatti le tonalità sono due Ve le farò vedere poi sbocciate Basta iniziamo Non voglio che le matite siano solo ed esclusivamente una parte marginale della situa Però proviamo Ovviamente ragazzi La eyeshadow primer va testato per più giorni Con una resa su strada Io adesso lo applicherò qui con voi Vi dirò come noterò la stesura, l'aderenza dei prodotti, la pigmentazione Lo scovolino è fatto così molto classico E penso di applicarne questa quantità Non so onestamente se ci siano altre colorazioni di eyeshadow primer Sono le 8.55 di giovedì È stata una settimana bella piena Quindi almeno ho trovato il tempo questa mattina per registrarvi il video Volevo fare una cosa con calma, fatta bene Dove ci prendevamo i nostri minuti assieme a questo brufolo E non so cosa mi sta accadendo Allora sembra andare ad informare il tono della palpebra Non ha una coprenza al 100% È molto leggero e è un po' quella consistenza Non dico scivolosa ma non è pesante, pastosa, appiccicoso Tuttavia una volta che lo sfumate Quasi asciuttino mi sentirei di dire Sì praticamente è come se si autosettasse Penso che ho riuscito a vedere anche la texture dell'occhio qua Un po' più sbrillucicosa del mio shable E qui è normale insomma Senti io credo di aver fatto un look caldo di recente Quindi sicuramente mi ruoterò intorno a questa situa qua Anche perché notiamo sempre in giro io, voi e io e voi Che colori neutro freddi pochi Quindi vado a prendere questo colore qua che si chiama blend È questa tonalità qui che sembra un tortorotope grigiolino Spolvera A me non è una cosa che dà fastidio però lo segnalo sempre E vado piano piano a tamponarlo Proprio super naturale come c'è un'analità Come se deve stare a ricreare le ombre insomma Ricostruire la struttura del mio occhio Che è un po' quello che voglio fare quando faccio questo tipo di trucco Che io l'occhio in cappucce Quindi dobbiamo portare tutto fuori Questo è un colore molto naturale Quindi raga non mi sarei mai aspettato la pigmentazione Di un colore nero Mi serve giusto per andare a creare delle ombre Chissà se passerò tutto il video con la paletta davanti agli occhi Anche abbastanza stratificabile devo dire Pur essendo un colore chiaro molto naturale Già così si vede che ho l'occhio truccato Ora voglio andare a prendere la matita kajal nera Che si chiama blacklist E quanta soddisfazione mi dà questo punteruolo Si estrae matita in legno Già super affinata Nella mia rima Ok Pigmentazione c'è Mi sembra anche molto morbida la mina Però è la prima volta che la provo Ok sicuramente bella nera E la vado a sfumare Così verifico un attimino come la consistenza e tutto Comunque ho tenuto i caloriferi accesi per sbaglio tutta la notte Non vi dico che panetteria che era a casa stamattina Vado già un po' a fare il mio angolo interno Se sai che look sto per andare a fare Scrivilo Cioè non sto aggiungendo prodotto Riesco tranquillamente a sfumare La matita dal borne inferiore Fino quasi a creare questo eyeliner sfumato Senza aggiungere prodotto Una cosa molto buona È effettivamente morbida raga Non è una di quelle matite Difficili da trascinare Da sfumare Da modificare E da modellare Credo che sia anche abbastanza stratificabile Però lo scopriremo magari dopo Intanto veramente Quel residuo che ho sul pennello Senza che prenda altra mina Altro pigmento Ho fatto Wood tonalità più scura Questo è un test È tipo un noce freddo Sembra leggermente verdino dalla camera Però non lo è È proprio marroncino Io nelle palette apprezzo sempre il nero L'ho sempre detto E lo dirò anche in questo caso Quindi nella palette non c'è Ve lo segnalo Sicuramente se avete lì My birthday suit Come me c'è il nero Bla 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 Però giusto per dirlo Se non avete palette di Mulac Oltretutto ragazzi Tutta questa collezione è scontata Del 30% sul loro sito Vi lascio il mio link personale Nell'info box Trovate una volta che Che effettuate l'accesso tramite il link È già tutto scontato Non dovete inserire niente È tutto in promo lancio Al 30% E mi pare ci sia anche il bundle Con tutti i prodotti acquistabili Pigmentazione buona Facile da utilizzare Si stratifica E si sfuma molto bene Ok Adesso voglio andare a prendere uno shimmer Allora sono indeciso Tra bronze e classic chaos Allora Credo che andrò a fare un mix Fra classic chaos Ovviamente questo sbrilluccicone qua sopra E quello bianco Provo classic chaos Classi sassi Chaos col dito Poi vado a perfezionare la forma Bellissimo Con il pennello Effetto extra wet Yes Scrive anche col pennello Ovviamente raga lo sappiamo Tutti i shimmer Danno il meglio di loro Col polpastrello Perché c'è il calore Del dito Viene lo sfregamento La perla Si apre bene tutta Che bello Adesso vado ad utilizzare Questa colorazione qua Più scura Che si chiama Bronze Fra classic chaos E la matita nera Proprio poco poco Giusto da creare un po' Di transizione Riprendo wood E vado a fumare tutto E ora prendo sempre Quel pennello Nella parte iniziale del mio occhio Questa tonalità qua Che si chiama hologram Uh Questo raga Non so se riuscite a vedere Tipo sembra quasi traspare E' un po' Quella tipologia di colorazione Delle disturbi a strobe Non so se avete presente Che ha questa Duocromaticità Che bello Cacchio Ecco perché Non potevo metterlo anche Vabbè Invece che rimanere Solo nell'angolo interno Lo spatassamo Un po' Verso di qua Vedete che figo Wow Ok questo Questo ci spettina La vita Wow Io raga prego Che tutti i brand Che tocco incontro Facciano rossetti Super marroni Quindi speriamo Occupiamoci Della parte inferiore degli occhi Avendo fatto ovviamente Concealing E setting E' andata un po' La matita è stata un po' Intaccata Anche se devo dire Che si sta comportando bene Nella waterline Perché ho Lacremato parecchio E ha detto Comunque vado Semplicemente A ripassare un po' Il nero Non vado a fare niente Di mega preciso Questa matita è molto Pigmentata E cremosina Poi vado a prendere Sempre blend E vado a Prima Picchiettarlo Sulla matita Nera Ma come si fa La gente a farsi La rima In camera Cioè Inferiore in camera Io non riesco E vedete Picchiettando Si crea già un gradient Very carino Devo dire Stavo leggendo Le istruzioni La matita è veramente Cremosa Raga Anche a tipo Mezz'ora dopo Che l'ho applicata Per renderla Long lasting Andrebbe fissata Infatti stavo leggendo Proprio Il flyer Di campagna Perché è proprio Una texture E una pigmentazione Da mila morbida Quindi è super malleabile Ci potete fare Quello che volete È veramente intensa Spavento Però va fissata Questa GLS Eccoci qua Questo è il look Il look È il look realizzato Io devo dire Che mi piace molto Totale raga Hologram La tonalità Che ho messo qua Ha completamente Svoltato la situa Cioè mi è piaciuto Tantissimo Soprattutto creando Questo contrasto Con rosa Che non è banale Secondo me La palette è approvatissima Avete messo da voi La resa degli ombretti Sicuramente voglio andare Anche a provare Queste tonalità qui Magari se vi interessa Qualche contenuto in più Su Instagram Eccetera Fatemelo sapere Veramente molto valida Secondo me Top Per le pelli Chiarissime Chiare Medie Medie scure Per le pelli scure Secondo me Da valutare anche L'acquisto di questa Matita qua Mi è veramente morbida Scrivente Pigmentata Che è come piace a me Utilizzare questo Tipologio di matite Nel senso che Preferisco avere una matita Che sia Molto lavorabile Molto pigmentata Quindi Non perdo tempo Tre ore a scaricare Non faccio fatica A modellarla Quindi Ho la pigmentazione giusta La lavoro molto bene In fretta Sfumando La fisso con l'ombretto Questo è il mio gusto personale Che insomma Mi ha sempre accompagnato Nella scelta di matite Di questo tipo Perché proprio La matita la voglio Nella rima Per creare Questa sorta di Reverse eyeliner Ho bisogno che la matita Sia pigmentata Scrivente E facile da usare Swatcho La tonalità Questa qua scura È immediatamente Ultra pigmentata Wow Mega cremosa anche lui Veramente intenso Come marrone Freddo Non caldo Tipo quello della palette Molto molto bello Questo secondo me È una tonalità Che potete utilizzare Quando il nero Non vi piace O volete qualcosa Di un po' più naturale Ma comunque Preciso E definito Il primer Ripeto ragazzi È la prima volta Che l'ho utilizzato Si è steso bene Ci ho sfumato bene Sugli ombretti Io non l'ho fissato A differenza di quanto Viene suggerito Nel senso C'è proprio scritto Che si può Per una scurrivolezza Migliore delle polveri Dell'ombretto Si può fissare il primer Con un ombretto nudo Con la cifra Io non sono abituato A fare questo Quindi non l'ho fatto Però vi do anche Le istruzioni d'uso del brand L'hanno fatto loro Quindi assolutamente E sono prodotti Che vanno testati nel tempo Come anche tutti i primer viso Questa è proprio Una first impression Bene Il video è terminato Per me è stato Assolutamente tutto promosso Fatemi sapere Mi raccomando nei commenti Quali sono le vostre Considerazioni Se vi è piaciuta Se non vi è piaciuta Se vi è piaciuto il look Se volete che realizzi Altri contenuti Con questa palette Magari per vederla al meglio Intanto vi ricordo Che in infobox Vi lascerò il mio link Non affiliato Per accedere al sito E trovare la palette E la collezione Scontate Del 30% Fino alla data Che vi metterò qua Che credo sia il 17% Però non sono sicuro Vi ringrazio come sempre Per aver guardato il video Ringrazio Mulac Per aver collaborato Alla realizzazione Io sono super felice Tra l'altro Ho stupidato Ho finito Mi piace un botto Quando è caldissimo il pack E riesco a fare un look Che non sembra Di questa palette Io vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Alla realizzazione Alla realizzazione Alla realizzazione Alla realizzazione